buongiorno ragazzi vediamo come fare queste scritte google prima cosa abbiamo una nuova pagina e facciamo uno schizzo facciamo un cerchio e lo paghiamo come se fosse poi entriamo in quest'altro menu e usiamo questo comando qui per estrude mettiamo 5 e studiamo qui rimaneva tutto una volta questo si prende un pezzettino qua poi sempre qui usiamo un altro comando che è questo qui premiamo su questa superficie e questa esema il cerchio si distende una volta che si è disteso il cerchio facciamo uno schizzo sopra dove vogliamo in questo caso scrivere il contesto aggireremo e prendiamo che è bella quella menù facciamo l'esclusione e premiamo ok come vedete è scritta la scritta qui sopra però possiamo usare tutte le facce del nostro cerchio quindi c'è un altro schizzo qua inseriamo sempre una scritta ci ha 2 la sistemiamo e prendiamo ok andiamo di nuovo colmenù facciamo l'esclusione da quel menù 5 e facciamo l'estruzione e questo modo abbiamo escluso le due scritte come si può vedere in questo menu in questo menu usiamo questo altro comando e questo qui no scusate è questo quindi dobbiamo prendere e lo dobbiamo eccolo qui il cerchio come si vede e torna al suo posto ma porta con sé le scritte curvandole questo modo sarà molto semplice scrivere una scritta curva senza entrare e usare altre coprani vi ringrazio ed è tutto buona giornata vi ringrazio ed è tutto buona giornata